Il governo si rimetterà all'aula sul tema delle quote rosa, sugli altri nodi della legge elettorale invece, comprese le preferenze, il parere del governo sarà contrario. La decisione del governo è arrivata dopo un nuovo stop nella mattinata all'esame della legge elettorale richiesta dal relatore Francesco Paolo Sisto proprio per approfondimenti. Tra i nodi aperti la delega per la tabella dei collegi, le multicandidature e il salvalega. Il tema della democrazia paritaria è un tema che ci riguarda sia come parlamentari donne ma soprattutto come parlamentari di un partito, il partito democratico che già oggi prevede nel proprio statuto l'alternanza uomo-donna nella composizione delle liste. Abbiamo però sempre detto che la legge elettorale è frutto di un accordo condiviso, stiamo lavorando per cercare una soluzione che possa andare bene a tutti. Parità di genere e legge elettorale, quali nodi si riusciranno a risolvere? Io mi auguro che tutti i nodi che sono in questo momento sul tavolo possano essere risolti per dare finalmente al paese una legge diversa da quella del Porcellum. Il nuovo centrodestra da questo punto di vista, pur nel rispetto dell'accordo siglato con il Partito Democratico e con Forza Italia, ritiene di dover ancora lavorare per migliorare l'accordo che è stato fatto. E lui è caduto in questa rete, vede? Tra le parole e i fatti c'è un abisso. Lui ha voluto insieme a Berlusconi una legge elettorale perché non si cadesse più nei ricatti e oggi invece è ricattato e sottostà ai ricatti. Questo è un grande dispiacere perché io avevo fiducia che questa volta le cose si potessero fare per davvero. Invece oggi non sappiamo cosa succederà di questa legge elettorale. Non vogliamo mettere a rischio l'accordo sull'Italicum, sicuramente vogliamo combattere una battaglia di civiltà democratica. Quindi continuiamo a sostenere l'emendamento sul 50% delle capiliste nei collegi elettorali. Questa legge elettorale si sta porcellizzando giorno dopo giorno e emendamento dopo emendamento. Noi come Movimento 5 Stelle stiamo lavorando in aula perché il testo venga migliorato dove è migliorabile, mentre nel frattempo stiamo completando il percorso di legge elettorale partecipata online, attraverso la rete con i nostri concittadini. Ovviamente io che ho avversato questa legge spero che venga modificata e in profondità. Non è vero che siamo alla conclusione perché è solo la prima lettura quella della Camera, poi ci dovrà essere quella del Senato e da qui al Senato ci può essere un'epoca storica dal punto di vista politico che ci divide. Siamo convinti che si debba fare una buona legge elettorale. Questa legge elettorale ha dei deficit enormi. Mercoledì al Consiglio dei Ministri per la prima volta si abbassano le tasse, non ci crede nessuno. Lo vediamo. Lo ha detto il Premier Matteo Renzi, intervistato da Fabio Fazio, in che tempo che fa. Si tratta di 10 miliardi, ha precisato Renzi. Per Renzi poi l'Italicum, la riforma della legge elettorale, è buona perché porta al balotaggio e impedisce larghe intese giucchini da Prima Repubblica, riducendo il potere dei partitini. Io penso che se l'idea di Renzi viene confermata e si va nella direzione di una diminuzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori, il rapporto con i sindacati dovrebbe essere disteso. Probabilmente si apre qualche problema con Confindustria. Io penso che il problema sia di contenuto, per quello che mi riguarda il senso della lettera che abbiamo mandato, che del resto non fa altro che indicare, mettere a punto cose che sono contenute nel documento programmatico della FIOM. Credo che la sfida a chi vuole cambiare questo paese deve essere fatta sul come si cambia e sui contenuti del cambiamento. Io sono dei ministri di mercoledì, mi aspetto quello che è stato dichiarato, c'è un abbattimento delle tasse, sono stati fatti anche dei numeri e mi chiedo effettivamente da dove verranno trovati i soldi. Auguro che sia il risultato di una spending review, che però a me non risulta aver procurato i numeri indicati, però vediamo. Le posso dire che sostanzialmente è tifo perché ci sia qualcosa di buono, tifo per la diminuzione dell'IRAP, tifo per la diminuzione dell'IRPEF, tifo per un pacchetto che possa dare anche un segnale importante all'Europa, in modo che l'Europa ci lasci dei margini di flessibilità maggiori. Landini è il segretario dei metalmeccanici della CGL, quindi secondo me, al di là dei giochi tattici, non credo che questo giochino di Renzi durerà molto, cioè dura lo spazio di un frame o poco di più. Il governo non ha le coperture strutturali per ridurre il cugno fiscale, e quindi ci domandiamo che fine hanno fatto i 10 miliardi previsti dal piano della spending review di Carlo Cottarelli, l'uomo che è stato messo lì dal Fondo Monetario Internazionale.